Lo sai che Abillion vuole donare 60.000 dollari a Rifugio Miletta in cambio di 30.000 recensioni di piatti e prodotti vegani pubblicati nell'app? Per riuscire nell'impresa che aiuterai tantissimi animali che Rifugio Miletta soccorre ogni giorno, abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Nella descrizione di questo video trovi una pagina che spiega come funziona l'app, i progetti che abbiamo realizzato con Abillion fino ad ora e i progetti che potremmo realizzare grazie a te. Abillion è un'app che permette di recensire piatti vegani ordinati nei ristoranti anche da sporto e prodotti vegani acquistati nei negozi. L'obiettivo di Abillion è quello di incentivare e semplificare la transizione a uno stile di vita che non comporti lo sfruttamento e l'uccisione di animali proprio grazie ai suggerimenti degli utenti stessi. Per ogni recensione valida di un piatto o un prodotto vegano che un utente pubblica su Abillion, l'app mette a disposizione un dollaro che può essere donato a uno tra i partner selezionati, tra cui è presente anche Rifugio Miletta. Non c'è un limite, se pubblichi tre recensioni l'app ti mette a disposizione donazioni per 3 dollari, se pubblichi 1000 recensioni l'app ti mette a disposizione donazioni per 1000 dollari. Se entro il 31 dicembre 2021 gli utenti pubblicheranno almeno 30.000 recensioni devolvendo i dollari equivalenti a Rifugio Miletta, Abillion raddoppierà la cifra, permettendo così di cambiare il destino di tantissimi altri animali.